Ma sembra di stare nel Far West, che c***o è Bistagno? Cioè li ho rete di tenere qua, devo, cioè devo leggerli come in una pre-storia Eh bellissimo, come a Oriolo Romano, assolutamente Tanta, non va bene, sono Batman, guarda Siamo a Bistagno in direzione Sanremo, intanto ci intratteniamo Dunque compramo una mazzara La deve smettere di portare in mezzo, di portare in giro l'amico suo Tanto viscia sempre, c'è il coso, uomo uomo canne Casual per passare il tempo Costringendoci ad andare in giro con una potenziale arma che poteva riservarci un bel reato per portare abusivo d'arma Non lo potete fare, non lo potete fare Perché si è levato l'audio? Musichetta copyright? Sgamata? Cioè come può una persona essere in questo posto e non essere sbronzo Un minimo, non ha senso, capito? No Corso, non c'ha senso quello che stai dicendo Ma tralasciando questo arriviamo a Sanremo e ci mettiamo subito ad esultare dalla gioia Raga, siamo a Sanremo Non capirete mai la fatica mentale di musica E lui è un campione Lui è un campione Riscutendo però l'ira di un controllore evidentemente infelice E' un uomo canna E' lui uomo canna Tanto a un certo punto a metà video dirà No ragazzi mi sento veramente troppo male E me ne devo andare E' un solone clamoroso Davide bentornato Vabbè, ti ho fatto riconoscere Ho scritto a pomeriggio di casa E ora stiamo raggiungendo l'alloggio Corsi, ma per... Perché ha detto l'alloggio così? Che alloggio tra virgolette? Ok, va bene Dai, l'avete già capito dal titolo Ebbene sì, dormiremo nel van dei nostri amici Bunker 44 Artisti che si esibiranno in gara Sanremo 2024 Sono loro, questi grandi scappati di casa Piccolo, Fares, Fuster, Erin, Jackson, Gaff E poi c'è Ghiera La mente Camminare! E cammineremo! Raga, buonasera Mostraci, mostraci Beh, effettivamente i bunker hanno quel vibe Hanno un po' quel vibe da video di corse Effettivamente Aspetta, faccio vedere la puccia Vai Quello lì Bellissimo Questo è cosa nostra Sì, sì, sì Quì Ho sentito bene Ha detto puccia Prima di vedere ha detto puccia Le bunker non stanno nei menti Ma che buono la puccia, porco Dio Cioè tipo Lui non ha la minima idea di dove ne stanotte dormiremo Anche la pelina piccola ha un alloggio migliore del nostro Ma noi nonostante tutto abbiamo l'alloggio più figo di tutti Vero Guarda, ne chiamo Questa è la prima reazione al uno dei membri della troupe Ma perché si pare che è uscito da un bo' Uno spezzone di High School Musical 2 Scopre che noi effettivamente stanotte per le prossime 5 notte dormiremo lì Ah, dei cazzoj***a Civo, civo non civo no Tu ti sei per frate un timfano Prima di cantare a Sanremo Pulendoti col codonfio con l'orecchio Sì, perché mio babbo mi ha abbracciato e me l'ha spinto dentro E' colpa mia che mi ha usato un pro Eccolo qua, l'artista meno atteso del lato Beh, forse è anche colpa dei tu padri che se ti abbracciat Abbracciat alle orecchie E' un po' strana sta cosa Cioè o è 6 metri di uomo o è barba bianca di One Piece O c'è in modo in modo Pabraccia nel senso Ma che bello che sei Oddio sei su italiano Sei frischissimo Bella sta chiappa Ma era Sanremo o la fiera della 104 Ok non ce posso veramente credere Qui li vedi tutti C'è sta Enerix C'è sta Ema Toshi C'è sta Manuxo C'è sta Johnny Depp in Secret Window C'è sta Gabbo di Squared Ma soprattutto così de botto c'è Damiano dei Mane Skin Coi capelli blu Cioè è piena zeppa proprio Andiamo a conoscerli così Fixer ben tornato Non sta bene quello Ma che fa? Assaggiala ti prego Assaggiala giorba Ciorba Non è vomito Dai bro c'è un po' di cialis dentro Bevi quella roba Bevi quella roba prima di essere sul palco Non c'è cialis Non c'è Viagra Non c'è No lollo lagustre Lollo lagustre Ti vado next Di ciorba Raga Bevi quella ciorba Ma prima di essere sul palco Dai un po' di ciorba Il k Frate Il k Ma è uguale La ciorba Ma prima di essere sul palco Ah si è il k Dai un po' di ciorba Guardalo È lui Faster dov'è Ciorba 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 Da che schifo porco dio Ma che cazzo Che cos'era quella botta Ma cos'è diventato iniziato Un botto La tutela degli artisti è questa Ma ucso Vabbè è arrivata la star L'hanno scotta a tutti Quelle emancipate del club è arrivato Coprite subito Faster che se non cazzo a lui siete persi Oh raga Si sgonfiamo le gomme in umana Sarri Non lo possono fare Scusi 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 Faccia Fata Fata Non ce ne frega Noi siamo contro Gli artisti Così Scusi Non ti guarda Stiamo per uscire dai Le avevamo avvisata effettivamente Che ruolo ricopre qua lei L'autista Autista Perfetto Li porta al sicuro L'importante è che sia autista e basta Che si fermano L'educato salire sulla casa Guarda Manuzzo Ecco il segreto dei bunker Il segreto dei bunker è proprio questo Io ho un compito importante Darte le chiavi di casa Bello Grazie mille Quest'altro c'ha la voce di Just Ron Ho capito Ecco ripreso questo momento Olè Abbiamo casa raga Grazie raga Scopriamo quale è casa nostra Ma ma avete dentro Guarda che questi sono belli Sono belli ampi Per dormire Se tiri giù tutti i cosi Raga Io ho scelto la mia camera Questa Orribile Ho bevuto dalla stessa borrascia Dalla quale ho bevuto faster L'artista di Sanremo Anche io Anche Forse ci ha bevuto anche piccolo Akira Mario Lollo Villa Benvenuti Benvenuti Boh Vabbè Ok C'è bevuto un'artista di Sanremo Mi sembrava doveroso E infatti Ci ha bevuto lui Facciamo che mento sospetto Che c'è qua? Chi c'è? Nessuno Cosa stiamo facendo qua? Voglio una ripresa su Annalisa Se no lascio dislike al video E lo segnalo Faccio già presente questa cosa Cosa stiamo facendo? E' presenza qua? Ci c'è? Noi Un cancello Quelli che vedi ci sono Un cancello Sono buonissimi i staralli Un cancello Stiamo guardando Sanremo in realtà Non sono drogati i staralli Ma queste stanno fuori a guardare Sanremo dal cellulare Menti C'è davanti anche al cancello Ma che Buoni questi staralli non drogati Stanno molestando le tipe in tutto questo Ma niente Quindi qua non c'è né artista né droga Mazzicce si leva il cappello Ma quanto arrivano gli artisti? Vuole un tarallo? Vediamo i staralli se ce lo faccio Non sono senza droga Sono buonissimi i staralli Taralli per tutti raga Scusa Ma tu cosa ne pensi di noi appostati qua fuori Pur non essendoci nessun artista? Ti facciamo un po' pena Da 1 a 10 quanto? Che caga ragazzi Meraventa Ci siamo noi Io odio Per i taralli siamo qua 30 secondi dopo Perché non ce l'avete detto voi? Perché non ce l'hai detto che c'è Irama? Siete per perfide Noi vogliamo vedere Irama Irama! Piuma! Esci! Irama! Irama! Ciao! Ciao! Ciao Irama! Non sei la donna Ma non era Irama Era una donna effettivamente E' considerato Più più ma si ho sentito È il nostro dono? Guardi Abbiamo fatto un spazio apposta per voi Ma perché questo Ah ma perché potenzialmente Questo è l'hotel Da dove No ma non è mai Ma c'hai sedie corcoso Questo mica è l'hotel dove alloggiano i cantanti Ma mai Sarà l'hotel base dove guardano saremo Siamo pronti Dirige l'orchestra il maestro Enrico Melozzi Milanskowski! Milanskowski! È così che si fa Matteo e Riccardo bentornati Stiamo risultando per le prime parole di Jackson da cantante Dato che è il producer Ok vabbè Ci sta Ma mamma mia Vabbè caruccio dai C'è Giuseppe? C'è Giuseppe? C'è Giuseppe? Ma come sono usciti? Ma come è vestito quello? Ma che è? Questo è il primo boss del DLC der del ring Mario 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 C'è Mario? Dracula Piton Ma qui è il maestro? Sono più che onorato Guarda il maestro Guarda il maestro Ti spara un rictus sempre Clamoroso La grande borraccia veramente Giuseppe con bentornati Che pazzi il suo porco Ma dove sono loro i bunker? Rimonata Qui sono i feri di Sanremo? Questi sono i feri di Sanremo Sono toscani Come sono toscani? Ma mica se sente Brad, Benji, Mentor Night E stasera ce li fumiamo Che cosa sei? Allusa, allusa Allora, mettici un po' Ah, sì, ho goduto Ho proprio goduto Eccolo Oh, fratello Oh, le tue prime parole Le prime relazioni a caldo? Allora, allora Aspetta, aspetta, aspetta Questo magari all'orecchio Già che c'ha tutto bucato Ci mette 6 chili di orecchino Che gli tirano via tutto quanto Eh Quante parole hai detto stasera? Sono uguali Oh, che c***o Piano, fratello Piano, fratello Limonata? Limonata? No, raga Sta offrendo limonata a tutti Ma è palese Che ci abbia messo Ovviamente della forte droga Lì dentro Oh, oh, oh Oh, oh Oh, ha una sfida? Oh, oh Oh, ha una sfida? Oh, oh Una sfida che fanno In cosa sono migliore? Eh, c***o Stringiamo la mano Al vero re della serata Giuseppe Guardalo Rifacciamo Vero re della serata Giorgio Oh, il Giorgio Ti fa la linguaccia del Giorgio Ti fa Oh, madonna Eh, vedi che c'era qualche Qualcuna dell'acqua Ok, quindi si hanno bevuto Perché se chiedi l'acqua Appena ti spegli Quale qualcosa c'è C'era In quella limonata Acqua Scambiatare Che sono le mucche Perché sono il forcone Non ci credo Sono qui con Fares Dei bunker 44 Dei bravi ragazzo Ottimo, proprio bravo Ma con molta grinta sul palco Grazie signora Lo porterò in alto per lei stasera Ti giro poi ogni volta che lo guardo Penso a Heath Ledger Cioè È tutto scombinato nella mia testa Maria, Giorgio, Defra, Flozzo Bentornati È tutto completamente scombinato Io abito lì Se state male Io sono un medico Ottimo Ma buona sapienza Ciao ragazzi Prima notte Ha spaccato Un c***o È più alto del previsto Ma ha detto ai vecchi Se che state male Dice io sono un medico Solo perché erano vecchi Vabbè ci sta Guarda la macchia di sudore Eccola qua Che bella macchia di sudore Che schifo Su questa macchia Che oddio Ti vede da sedi Abbiamo anche l'antifurto No, Rai Zero Ti stai sbagliando Poi come risulta Ma non è alto Sarà solo 3-4 metri Ma perché farlo? Io mi ce l'acciavo E qua eh Io mi ce l'acciavo Devi che scagli poi Ti fa Capriola avanti Io mi butto Ma sì Tu pensi che Tu pensi che quelle persone Che siano a spiaggia libera Si sono guppate da qua Guarda sto cartello Che c***o dire Nei spogliatoi Non possono entrare le palle Vabbè sono fuori Eh spogliatoi Vabbè Ma non puoi proprio giocarsi qua Penso E che è ancora più orribile Come cosa Se ci pensi Uno non puoi giocare In spiaggia con la palla Dove siamo arrivati? Grazie cari ragazzi Dio Se ci drogano tutti Esatto Cioè fate bene a drogarvi raga Drogatevi ancora di più È tutto così scollegato Che non gli riesci A stare appresso Lui scende Da un ponte La prima cosa che fa Scendendo da un ponte Vede un cartello Con una palla Allora pensa Che negli spogliatoi Non puoi portare dei palloni L'altro gli dà no Gli dice no sì Qui non potrai giocare a palla Allora quello lo guarda E gli dice no Allora droghiamoci Cioè È tutto così scollegato Da essere quasi artistico Proprio per questo motivo qua Non si può giocare a palla in spiaggia Drogatevi Ma che sono il più spesso Di tre Ma perché Perché Ma basta Ma com'è possibile Che ci hanno sempre Sta cazzo di robetta Per cucinare Ma perché Così vabbè È una sborta comunque Vedete cosa serve A rimanere in forma Ma perché farlo Che succe Che confusione Sarà perché ti amo È un'emozione Che scende piano piano Sivi forte E stami più vicino Invito richiesto a passi dal Remo Richiedi passi Clicca Mi è sembrata Quella Quell'intervista Non verrà mai mandata in onda Probabilmente Per motivi ovvi Alex è stato un figlio Con i contatti dalla Svizzera È riuscito a farci avere un pass Ora stiamo andando a prenderli Ma prima Un piccolo scherzetto Che scherzetto Ovviamente Un Suddito Niente di esagerato Puoi uscire un secondo? Sì sì Facciamo una che vedo Ci mettiamo nudi 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 Uno degli artisti di San Remo Siamo per fare un bellissimo scherzetto Ciao Gero Adesso non ti vogliamo bene Vabbè sono nudi nel letto ragazzi Sono nudi nel letto Sono nudi nel letto Strusciano Strusciano il loro ano E le loro palle Nel letto Di uno dei cantanti Dei bunker Disgustoso Probabilmente Uno dei peni E' stato Si si è colpito Con un altro dei peni E' per quello che At Ledger E' un pochino Adirato E qui infatti Qui si va Direttamente a un culo A un culo Dai è un normale culo Nessun dorme va Nessun dorme va Quindi vi lasciamo anche un messaggio Molto minatorio Minatorio Ok Non si può sapere Che cosa ci avete scritto Beccatevi casa San Remo Dateci quello che ci spetta Ma che non ci dovrebbe aspettare Per niente Sì No raga Ok Entrava come passa Bene Mancomale Proviamo a vedere se funziona No Abbiamo trappato tutte e tre insieme Quindi è possibile Ok Qua c'è gente che sa fare il suo Come ti piace Contatti Contatti Bene Bene Qua c'è cibo gratis C'è cibo gratis qua Vabbè Un'opera C'è cibo gratis Come se di norma Quando vanno in giro Non prendono cibo gratis Rubandolo Dai va bene La faccia dei bunker C'è cibo gratis New Uno straccetto dolce Buonissimo Pizza gratis Come dolora Ammazza che pezzo di pizza Ma che era Non ce voglio crede Non ce posso Ma guarda Che cazzo è È buona sta pizza Ragazzi C'è gioie C'è Non dite di no È letteralmente gioie con occhiale sopra C'è Voleva Voleva nascondersi dalla folla Cioè Palese Non lo voglio dimenticare Andy Non lo voglio proprio sapere È diverso Di nuovo all'ennesima festa del c***o Ma per noi questa situazione Andiamoci Ora Ora Raga guardate come vengono viziati Gli artisti di Sanremo Non si può Ma che so Paffa volontà Ma che so Ha i cossa Ma che è Le ricariche di sigarette elettronica Ah è paffa Ho fatto una scelta Nell'albergo di artisti di Sanremo Raga Ho scoperto una cosa Sto Stai stagMendo Il patto Da te Stai stagMendo Ma questa non è No ma questo Questo è No ma No ma Ma cosa Ma Sì Ahago Che fa lei, perché scuola Qualcuno berrà un vino con mani di palle in mezzo Che rimasto Eccolo Fabio Z comunque, regà, palese Poi ci ho pensato perché Ti sei preso male? Ti mi avevi detto Mi avevi detto che volevi le camere No, cazzo, il mio priaco ha sbagliato tutto Stavi impanicato? Sì, frate I primi 20 secondi Comunque è stato scritto a più o mai No, no, solo una Ma che gli hanno scritto? Se può sapere? Canta un'altra volta a Sanremo E la tua futura prole sarà punita Ragazzi, sembra il tizio di New Girl che non sa fare gli scherzi Che può fare delle cose veramente tranquille o fa delle cose esageratissime Ma no, regà, non puoi Per questo Pezzo di m***a Schiaccia due tasti e non rompere le palle a tutti Hashtag mori male Tra tre parentesi Affogato, bruciato, beacutato Strozzato Assassinato Ma è terribile L'importante, raga, è non fa così Salta, rosso Salta, rosso Salta, salta Salta, salta Raga Ecco, qui si sarebbe terminata la mia conoscenza con questi esseri A prescindere da tutto Cioè, no Lo sto superando adesso l'ascensore Non posso vedere questa roba Doccia Mario? Che parla di artisti di Sanremo Ti ha fatto emozionare Dama? Che frac, te lo hai fatto emozionare Che cucciolo Mi ha fatto emozionare perché sei venuto nella mia doccia Cioè, sei venuto Cosa cazzo hai appena detto? No, finisci il salto per presto Sì, c'è il concorrente in gara a Sanremo, sì Sabato finisci la gara Allora, ti aspetto Ragazzi, ma che cosa si era fumato? Si era fumato qualcosa di indicibile, sì C'ha due occhi perché so le master ball No, secondo me stava solo a piagna C'era gli occhi rossi perché capite I rama ti tocca il cuore Possiamo cantarti la lina nanna? No, è la cosa Ti credo Boh, vabbè, non lo so, davvero Non lo so Avrete un film Ok, Ellie sì Beh, being chilling Ellie Dice, corsia, dove sta? Dov'è? Dove sta luce raga? Ok Avevi un animale in testa? No Avevi un animale in testa? Cosa stavamo alzando in giro un animale? Ti è caduto in testa? Sti cazzo Non rimane da? Boh, un piccolino con le ali Che tipi Marti, alibet No, il zio non era un bocerino Così era un condor? Neanche Però pensa se ti entra nell'orecchio E si riproduce lì Non c'è un cazzo Ti faccio pure Ci sta? Va bene Mamma mia, è morto Ma che gli è successo? Mazzì Bello dormire nel van degli artisti di Sanremo Ma alla cervicale non gliene frega proprio un cazzo Eh, ci credo Ho fatto un regalo A Corsi e agli stagisti non retribuiti Un pacco che arriverà Nella mia phone All'allè Non lo so Però arriverà Sì Giù ho fatto un upgrade Primo L'accettolaio a verde Secondo Ora la sciarpa abbinata alla casa Ok Ci sta Sali, sali Oh, allora delle ciucce bassa Lori questa Però in effetti per avere il confort degli artisti Non bisogna essere per forza artistica No, non serve affatto A quanto pare Bello, c'è pure il parquet Questi erano i video che si facevano Oh, 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 perché scacchi? Mannatevena a fanculare la scacchiera per giocare a Dama Ma guarda, ti giuro Se ti prendevano di piatto proprio A 180 Impazzivo Godevo Non l'ho visto Guarda Lolo la gustre che si gira lì davanti Vabbè, vittorio che prendono Oh, il l'acu Why il l'acu Eh, Lolo Te sei ben benugnato un'altra ora, Ben? De l'ho mandata in privato su Discord Limott Ah, ok, Lori Sì, ho tutto lungo E quindi quando vinco io festeggio un botto Abbiamo appena incontrato Cleopatra Che cazzo è? Ma chi è? Questo ci piace Mi piace tanto Minchè se mi piace Spostatemi 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 Subito Spostatemi Successivamente ci è venuta un'idea Ed abbiamo passato tutto il pomeriggio Oltre che a scattare foto e a firmare scarpe e cucchiaini Per ciagrone Procacciarci ragazze per uno scherzetto barra sorpresa ai bunker Stiamo ufficialmente esagerando Esatto Scusateci ragazze Finché siamo arrivati alla concretizzazione della cazzata Toccate la mia mano Dai, dai Aspetta Pim Abbiamo combinato il danno raga Il danno è fatto raga Non si torna più dietro Non si torna dietro signora Il danno è fatto Iniziano ad arrivare le prime conferme Abbiamo appena deciso che il Drescot è elegante Esatto Qua ne abbiamo due Prova la tre Di qua ne abbiamo tre, quattro, cinque, sei Hanno invitato 18.000 tipe all'hotel dei bunker Va bene, ok Sì Come potete notare si è fatta a sera E noi siamo stati tutto il giorno in giro A cercare ragazze Non ci siamo fermati un attimo E ora Andiamo a pensare ai preparativi del tutto Ciao Mike Com'è la situa? Bella calda Bella calda Sì, ci vediamo tra poco Iniziamo Stiamo iniziando a metabolizzare una cosa Che mi ha fatto una cazzata? Probabilmente sì raga Se la facessero meglio Ho visto come erano tutti i tisi tutti adesso Questi piani vado a lavorare Mi spaventare Una volta tornate abbiamo iniziato a spargere la voce del nostro piano Ai più fidati che lavorano coi bunker Per avere un parere Prima di chiedere la ghiera Il manager Tu ti assumi la responsabilità E infatti A me mi sembra proprio vinculato No è bellissimo È una sorpresa bellissima ai ragazzi Come la prendono? Eh Che abbiamo Imprevedibile Però c'è anche da dire che è anche un momento delicato Lo è In un momento come qua dove tutto è programmato Tutto ciò che è extra Succede Ok Se deve succedere succede Se voi siete veramente una particella atomica impazzita E cosa abbiamo fatto? Abbiamo invitato una tra le 30 e le 60 ragazze Se qui a mezzanotte e mezza per registrare un videoclip Videoclip di che? Non lo so Dei bunker Non hanno niente per cui devono fare un videoclip Raga io non ci credo mai Non ci Sì Ma che sugo c'ha la tipa Guarda che sugo zì Ferpone Pantalone lungo Sugo Professionale eh È bellissimo Sì Guarda Raga ma che c***o Il problema è che Dai raga Non ve lo faranno fare mai Mai Non esiste No Non esiste Vabbè Vincu Lo dico vincu Sì Però sappiate che Cioè stonate non dormirete su sto furgone Sì ma voi avete detto 50 ragazzi che faranno un videoclip mettendo in mezzo le agenzie Raga Vi prende No Vi mette a 90 E vi No no si può fare in alcun modo Vincu Ha detto proprio cancellate questa idea dalla testa Non proprio non pensaci nemmeno Ed è una roba Grossa Che non si può fare Va annullato immediatamente E nel caso in cui esca questa cosa vi dovete prendere il 100% della responsabilità Ma cazzo Parte 2 Pensavo fosse parte 1 base Nooo Perché non ho capito Perché abbiamo annullato tutto noi Perché non abbiamo avuto la conferma da nessuno Mi ha finito eh 5 minuti Sì Coglioni Grazie Grazie Grazie